Nonostante questo, c'è la sanissima pratica in Italia di buttarlo all'interno dei campi, sui campi, direttamente. Utilizzando questa pratica, noi andiamo a inquinare anche le falde acquifere. Quindi, in una situazione per esempio come la pianura padana, voi state incentivando che questo materiale vada alle centrali a biogas, che si crei ancora di più quella camera a biogas, chiamiamola così, che è la cappa che abbiamo sulla pianura padana, perché queste centrali comunque emettono polveri. E andiamo a inquinare ulteriormente le falde acquifere di alcune zone d'Italia, che sono già compromesse per una gran quantità. Quindi, io vi invito veramente a ragionare. Vogliamo parlare di questo discorso? Parliamone. Non è questa la sede, non è questo il posto dove parlare di rifiuti e di sfalce potature. Parliamo in una sede adeguata. La ringrazio, deputato. E allora, adesso, Trippiedi, a titolo per... No, lo dica al microfono. Presidente, per sottoscrivere l'emendamento. Grazie. Ok, va bene. Allora, quindi io a questo punto, se non ci sono altri interventi, metto in votazione il mantenimento dell'articolo 30 bis. Dichiaro aperta la votazione. Allora, Palmieri. Eccolo. Votato? Brugnerotto. Ha votato? No, qui non lo vedo. Brugnerotto ancora no. No. Ecco, votato. Grazie.